Ed eccoci qui, ben ritrovati nella foresta di Sherwood, al festival di Radio Sherwood 2021 e abbiamo qui con noi Sizz che si esibirà questa sera e Sergio dei Boncilom Sound, che è il sound di Padova. E niente, li abbiamo qui perché giustamente volevamo chiedere un po' di cose inerenti all'album che è uscito e quello che uscirà, visto che si sta lavorando anche su questa cosa. Se vuoi parlarci un po' di te, come mai ti sai, come sei approdato alla musica reggae, come mai hai questa passione? Sì, il reggae è una musica che comunque mi accompagna fin da bambino, dopo le cose classiche, uno ascolta il Jamaican Style, quindi sono cresciuto con quelle vibes lì, quelle vibrazioni lì, è una musica che mi ha avvicinato parecchio, mi ha fatto crescere moralmente, mi ha fatto passare bei momenti, quindi insomma... Ti hanno colpito anche i testi, i messaggi che... Tutti i testi, dopo chiaramente sai, noi siamo qui in Italia, quindi la cosa è vista un po' stranamente, cantare in patua e così, però... Infatti l'ultimo album è prevalentemente un po' in inglese, però è una musica globale, quindi il messaggio è globale, io con l'inglese voglio dare anche una globalità della cosa, arrivare un po' a tante persone, come mi sono approcciato io anche a reggae traducendo i testi, ascoltando la musica, no? Quindi quello, il messaggio d'amore, di unità, di tante cose, dopo è una musica potente. Il nuovo progetto, appunto, l'album è uscito... è uscito ormai quanto? Due anni fa? Sì, ero Two Life, che appunto voleva essere un inno alla vita per tanti ragazzi che adesso... Epoca Covid, prima... Era un pre-Covid comunque, Two Life, no? Era un pre-Covid e dopo è stato quasi un presagio, nel senso che comunque dopo ci sono tanti fattori che portano i ragazzi a... Io parlo prevalentemente per quelli che sono i bambini, che dopo cresceranno, o i giovani della nostra anche età, anche un po' più grandi, che si perdono in tante cose, quindi sì, è un messaggio di unità, di stare insieme, uniti sempre, di andare avanti. E niente, l'ultimo album che uscirà sarà prodotto appunto sempre da Skinny, da Nevo e tutto l'Underdogs Studio, che appunto oltre a Bonsiloma c'è questo grandissimo progetto che è Underdogs, che... Ecco, lascio parlare magari Sergio. Magari Sergio parlaci un po' di questo studio che è stato... che è in lavorazione anche, no? Sì, sì, sono ormai due anni, due anni e mezzo, che io, Nevo e altri ragazzi, siamo quattro soci, abbiamo dato vita ad Underdogs, che è uno studio di registrazione, all'interno dei quali, oltre a fare recording studio, seguiamo almeno uno o due progetti l'anno, in cui mettiamo anche una parte di produzione nostra, quindi anche musicale, soprattutto per dare una mano ai nuovi artisti a emergere, quindi a dare nuova linfa vitale alla musica in generale. Con SIDS ormai sono più di tre anni circa che lavoriamo assieme e chiaramente abbiamo aperto poco prima dell'inizio della pandemia, quindi abbiamo in piedi una serie di progetti che chiaramente hanno subito un po' un rallentamento dovuto anche al fatto del lockdown e insomma tutta la situazione che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, però nonostante tutto comunque siamo riusciti a portare a termine un sacco di progetti e tra questi c'è Timeless, che sarà il nuovo album di SIDS in uscita a settembre-ottobre e nasce il lavoro con i ragazzi che hanno reso possibile questo album, che hanno suonato questo album, è nato poi il progetto anche dell'Underdogs Band, che altro non sono che tutti i musicisti con i quali noi poi collaboriamo anche a diversi progetti, che però insomma hanno comunque una passione diciamo soprattutto per la musica reggae, la musica in levare, insomma quella che ci piace a noi Roby. Per cui si suona insomma, si suona dal vero, non è che si fa tutto con i macchinari e programmi digitali. Sì, soprattutto anche per questo disco, insomma anche SIDS ha dato una chiara scelta di tornare al classico Roots, quindi abbandonando ogni aiuto diciamo digitale, quindi rimarrete anche insomma piacevolmente sorpresi sia per il lavoro che ha fatto SIDS, che in questi anni sta crescendo tanto, sia anche per il lavoro dei musicisti, dei ragazzi, tutti quelli che hanno suonato, quindi Simone, Luca, Boa, Italawa, quindi Carlo e Umbe. E niente insomma, questo è un po' il progetto di Underdogs. Molto interessante questa cosa qua, perché bene o male conosco alcuni dei musicisti e c'è una certa esperienza per chi c'è, la vecchia scuola e bene o male la possibilità di emergere tra i giovani, come diceva prima SIDS. Il primo album, non ho capito, sarà tutto quanto in italiano? Oppure dicevi che... No, il primo album in realtà era praticamente tutto in patua, quindi sì, è una scelta stilistica mia, perché comunque io sono cresciuto ascoltando quel reggae lì, quindi sì. E comunque ti trovi bene insomma? Io sì, fluentemente con la lingua è un qualcosa che mastico da sempre, quindi ecco, mi ci trovo bene anche con il flow, con tutte le cose, come appunto la potenza che dà. Certo, per cui hai fatto questa scelta come dicevi prima, per arrivare un po' anche a più orecchie insomma. Sì, diciamo di sì, perché appunto il reggae nasce lì, nasce in Maika, dopo è un messaggio globale, però appunto io mi sposto con questa musica un po' globalmente, no? Quindi sì, ci tengo che si mantenga un po' la forma originale, dopo sono tutte scelte che insomma fanno il suo perché. Bene, allora un album fatto, uno in arrivo e ormai abbiamo svelato Sergio un po', però diciamo uno studio di registrazione con musicisti veri che è qui a Padova e sta diciamo aiutando non solo a ritrovarsi con la musica e le radici della musica giamaicana, ma sta facendo incontrare e fa da ponte come i buon Ciloma hanno sempre fatto, essendo vecchia scuola e tu eri giovanissimo, io mi ricordo e lo sai ancora. Per cui questo ponte è stato ormai fatto a Padova e ne siamo veramente, almeno io ne sono molto orgoglioso perché c'è tanta voglia di fare, di muovere questa cosa e perciò non può farci che felici che Padova sia ancora una volta, grazie anche allo Sherwood Festival, di promuovere persone che magari non avrebbero mai avuto la possibilità di salire su un palco. Sì, anche perché come tu ben sai Roby, una passione comunque non si può solo prendere, bisogna anche cercare di dare qualcosa e creare una sorta di legacy o comunque una sorta di famiglia che poi continua a crescere in tutte le sue sfaccettature, quindi sia essere dei select, far parte di un sound, ma anche e soprattutto la produzione musicale, anche perché se la produzione musicale si interrompe poi anche noi DJ abbiamo difficoltà a suonare qualcosa, quindi è importante per noi anche spingere soprattutto chi, i giovani che vogliono avvicinarsi a questa musica, come è stato fatto poi anche con noi, insomma quando eravamo più giovani, come dici tu giustamente. Sizz ha detto una cosa molto importante prima, divulgare un po' quello che era il messaggio originario della musica giamaicana, che nell'Adden Soul sappiamo tutti quanti che tante volte non è proprio quello il messaggio, però di unità, di collaborazione, questa è una cosa che piace molto perché sappiamo che tante volte si predica bene, si razzola male, cioè tanti sound dicono peace, love, fraternity e poi dietro alla schiena magari si coltellano e fanno di tutti i colori, insomma sappiamo che la scena è un po' questa. Allora finché questo rimane una competizione che serve a stimolare le persone, poi si va a bere assieme una cosa, invece se poi ci va a ostacolare non si capisce, non si ha ancora capito che si va ad ostacolare un po' tutti, quindi non solo quello che fa musica, ma il musicista è quello che fa qualcosa per far evolvere questa musica, che è la musica reggae che noi amiamo. Sì, per noi l'importante, ma come anche per Sizz, per i testi, le canzoni, è soprattutto spingere la positività di questa musica, quindi lo stare bene assieme, come dici tu, trasmettere buoni messaggi, buoni propositi, e stare bene assieme perché questa musica insomma funziona così per noi, per tutti. Esatto, è quello che dicevi tu appunto, finché è sana competizione ci sta, dopo si sfocia sempre in qualcos'altro, ma sta ritornando l'unione, questo festival ne ha dato la prova, appunto tantissime realtà diverse negli anni, ma sempre con uno spirito di aggregazione, persone che magari ascoltano un sacco di generi diversi, ma che si ritrovano qui e quando si è sotto il palco, dopo si dimenticano tutti i problemi che ci sono stati fuori da qui, come dovrebbe essere la musica in generale. La mia passione per il reggae è questo, dopo ci sono cresciuto e questo porto avanti, insomma è un qualcosa che va dentro, va oltre. Benissimo, io Sizz, non posso che augurarti un buon live, e saremo tutti sotto il palco dello Sherwood Festival e aspetteremo il disco. Intanto Sergio continuerà con le sue produzioni e vi faremo sapere. Qui dallo Sherwood è tutto e buona serata.